Musica Chiamo Anna, Elisa Fossaluzza, Ivaldo Erico, Giacomo Riboni Ho prestato servizio nella prima mostra che è stata organizzata negli Spazi Cafoscari che è stata appunto Nigrosum Sed Formosa Ho a Vicenza la mostra presso il Palazzo Leoni Montanari Punta della Dogana, Palazzo Grassi La Fondazione François Pinot Al Palazzo Leoni Montanari Nel padrone esterno della Biennale di Bruce Nauman Il mediatore culturale è questa persona che appunto si trova diciamo in nove anni e mezzo tra il pubblico e come dire il personale stesso del museo C'è molta interazione tra visitatore e mediatore culturale Il confronto con il pubblico è stato positivo anche per quello perché non eravamo sempre noi a spiegare ma spesso imparavamo quasi di più noi da loro E' stato bello uscire la sera dal museo sempre con qualcosa di nuovo Essendo comunque noi dei personaggi giovani quindi studenti abbiamo sicuramente un approccio diverso rispetto a una guida C'erano domande di qualsiasi genere Le domande un po' più frequenti erano soprattutto di tipo contenutistico Qualsiasi cosa mi è stata chiesta Deve essere una persona brava a capire le esigenze diciamo del visitatore Secondo me deve saper ascoltare Approfondire la conoscenza della materia Deve essere una persona che non ha paura di interagire con una persona Deve saper portare l'opera ad un livello più semplice diciamo Semplificarla per renderla più fruibile Senza dubbio essere preparata Sì appunto vabbè ovviamente avere un determinato tatto quindi essere gentile Una persona senza dubbio empatica Che sappia parlare delle lingue straniere Anche giocare con una sorta di ironia L'esperienza di mediatrice culturale sì mi è servita Mi è servita per conoscere un po' come funzionano le dinamiche Le dinamiche più professionali dell'arte Così si vede come anche cambi il modo di guardare le opere Stando dentro e vedendole tutti i giorni La trovo una professione interessante Spero mi sia utile anche per il mio futuro È tanto utile vedere come nel lungo andare si sviluppi la vita E la visita all'interno di un museo Provare l'esperienza di stare all'interno di un istituto Di un'istituzione importante È stata una bella esperienza Ci credo Grazie